Provate a immaginare un mondo dove tutto è possib... Oh, sto a fare una cosa seria però... Dove quello che è, non è. E quello che invece è... Un mondo fatto di... Ma anche di... Il vento delle emozioni che ti scompiglia i capelli. La famiglia, l'amicizia, la... No. C'è altro oneste? Sì, te scotta. Qualcosa che di certo non vi potete perdere per... Potete trovarci sul canale YouTube Cialtron Studio, dai! E guardarvi tutti gli episodi. Poi vabbè ci stanno un sacco di cose, fanno troppo ridere. Perché? Ma ce stai pure te? Eh sì, ce sto pure io. Ah, vabbè. Vabbè chi è? Io ce sto. Che ce posso stare? No, perché io ce ho scritto una canzone che accompagna uno sketch. Bravo. E il cantante adesso... Guardate Cialtron. Ciao.